quando prenoti il tuo viaggio affidati a blu coral vacanze entra nel colorato mondo blu coral vacanze crea con noi la tua vacanza ideale blu coral vacanze in corso vittorio emanuele 160 162 a sciacca siamo in via cappuccini come vedete sono in corso dei lavori in tutta fretta perché un guasto è saltato parte della conduttura proprio qui in via cappuccini e quindi si rende urgentissimo l'intervento che si sta effettuando proprio in queste ore mentre parte del traffico è stato deviato in questo momento per via cappuccini non si può transitare se non ha senso unico in in questo momento la gigenti acqua e la gestione commissoriale intervenuta con una squadra di tecnici questa mattina e quanto ci riferisce roberto locicero l'assessore ramo e che dice che l'intervento durerà pochissimo per evitare insomma tutti i disservizi tutti i disagi che la rottura comporta in una serie così importante ancora una volta una strada di sciacca interessata da un guasto alla condotta di una certa portata e che interessa soprattutto una strada e in questo caso molto trafficata e molto importante per la viabilità cittadina